Cosa le manca più del derby? Cosa mi manca più del derby è vedere quei derby di una volta dove prima di tutto c'è il pop, la nostra gente il derby è un'essenza, c'è un'atmosfera, no? Io la vedo così Qual era il giocatore che sentiva un po' più questa partita così speciale? Paolo, Paolo Nicagno, parlo proprio dopo Paoletto, sì, sentiva proprio sentiva proprio era uno del suo modo di concentrarsi, diciamolo così Lei è stato uno di quelli che ha chiesto la conferma di Inzaghi sin da subito si aspettava un inizio di stagione così importante? No, che nessuno poteva prevedere che Simone riuscesse a fare quello che sta facendo tutt'ora è una sorpresa comunque è una cosa certa quando si ha tempo per lavorare con un gruppo che puoi dare le impronte che puoi capire meglio i giocatori che puoi sfruttare meglio le loro caratteristiche, no? e tu hai questa capacità di riuscire a ottenere questo da loro e fare queste cose sicuramente qualcosa di buono esce, ecco Ti è mai capitato di ospitare qualche giocatore della Roma nel tuo ristorante con magari anche qualche spottò? Sì, ci sono stato nel ristorante mio ci sono stati i giocatori della Roma, i giocatori della Lazio, i giocatori dell'Inter del Milan conoscenze, ex colleghi, ex compagni ex compagni, ecco ex compagni, ecco comunque no il tuo scherzo c'è sempre ma il rispetto è fondamentale non c'è scherzo e c'è gioco ma il rispetto c'è sempre un po' tutta l'Europa